Questa invece è una delle prime canzoni che ho scritto alla quale sono veramente molto legato perché non avrei mai pensato che potessi fare una carriera così lunga da musicista così come dicevo prima e questa è una canzone che ve la voglio fare così come è nata con la chitarra e la chitarra non era questa però costava molto meno me l'aveva regalata Agnaro ma l'ho gettato ria in una sera di disperazione poi te la ricompro dicevo è una canzone